Nuovo brillante risultato per la coppia d'oro della danza adanita, Nunzio Stancapiano, 16 anni e Teresa Castelli, 15, ormai più che una realtà della danza e non solo a livello nazionale. I due ballerini adaniti hanno infatti ottenuto un prestigioso sesto posto nella finale del campionato europeo di danza. Un risultato che lascia ben sperare per la coppia di Adano che ha dimostrato tutto il suo valore a pochi giorni dai mondiali che si terranno il prossimo 19 ottobre a Kiev. Agli europei di Bratislava, Nunzio e Teresa hanno conquistato un ottimo sesto posto nella dieci danze categoria youth, a esse giovani una prestazione eccellente per loro che in finale sono stati i protagonisti e fra i migliori sino alla fine. I due ragazzi di Adano, soddisfatti per la loro prestazione, vogliono ringraziare i loro istruttori, ovvero i fratelli Trovato di Giarre, Sara Messina Denaro e Madio Cecinati di Trapani e tutto lo staff del Nikita Team di Tekastani. Ma ecco un momento della loro esibizione in Slovacchia. Grazie a tutti.